Non vedo l'ora di imbottigliare la mia ultima fermentazione, ma come capire quando è ora di farlo? E come capire se è il momento di alzare la temperatura per fare il diaceti e il rest? E in più, ma la densità è veramente stabile, non voglio sprecare neanche una goccia per verificarlo. Ciao, io sono Lucio, questo è Ombrio in Diary e se seguite il canale Instagram saprete che ho costruito un densimetro smart, il flotti. Tra i vari modelli di densimetri smart che potevo scegliere ho scelto questo il flotti perché mi sembrava quello che unisse il fai da te a un rapporto qualità prezzo abbastanza adeguato, i costi saranno a fine video. Per costruirlo basterà munirsi di un saldatore e acquistare una provetta di quelle per la geolocalizzazione, una placca all'in che per permette di utilizzare wifi e bluetooth per collegarsi, un giroscopio, una batteria 18-650 da 3,7 volt ricaricabile e per il montaggio servono anche dei cavetti di connessione per la batteria con la placca all'in e un supporto stampato in 3D. Tutti i materiali con le specifiche dei vari componenti e il progetto per la stampa 3D sono disponibili al link in descrizione da cui ho preso le istruzioni per fare questo progetto. Quindi per il tutorial ho seguito DIY Home Brewers che è un canale in lingua spagnola che descrive passo passo come implementare questo e tantissimi altri oggetti interessanti per il mondo dell'home brewing smart. Per me era la prima volta con un saldatore per circuiti in mano quindi devo dire che me la sono cavata bene anche se qualche imprevisto c'è stato. Primo da tutti il tempo di esecuzione di questo progetto infatti ci ho messo solo 6 ore tra la costruzione della parte hardware e la parte software. Quindi dopo la parte di gioia per essere riuscito a saldare più o meno con successo i vari componenti sono passato alla perplessità dovuto al fatto che inserendo la pila all'interno del dispositivo non vedevo nessuna luce lampeggiante. Ho poi collegato il cavo al pc e la luce per fortuna è partita quindi mi sono un attimo tranquillizzato ma non è finita qui. Passiamo quindi alla parte di configurazione. Per farla serve un pc e non un mac perché a quanto pare alcuni software non sono disponibili per mac. Quindi ho collegato il densimetro appena costruito al pc e ho provato a fare la configurazione. Sfortunatamente l'hardware non era rilevato pur essendoci i driver all'interno del pc. Quindi avevo spiegato come far parlare il pc con il densimetro ma lui non ne voleva sapere. Sono riuscito poi a capire che cambiando cavetto e basterebbe un semplice cavetto per i vecchi android. Il pc si è svegliato e ha capito che poteva parlare con quel driver. Infatti prima utilizzavo un cavetto che a quanto pare è solo per ricarica e non per trasferimento dati quindi non andava bene. Dopo un'ora e mezza sono riuscito a capire questa cosa e quindi ho proseguito molto velocemente alla configurazione del mio densimetro seguendo il tutorial passo passo e devo dire abbastanza facile. Ora è tutto pronto. Connetto il mio flotti al bluetooth, gli dico su quale rete wifi deve connettersi inserendogli la password della rete di casa e tutto funziona alla perfezione. Ora non mi resta che tararlo. Per farlo basterà preparare una soluzione di acqua e zucchero, misurarne la densità e comunicarla al flotti che è ovviamente immerso in questo sciroppo. In questo modo lui sa che a quella data inclinazione corrisponde quella specifica densità. Infatti il flotti funziona un po' come un densimetro a galleggiamento solo che misura l'inclinazione invece della profondità a cui va il densimetro. Comunque appena fatta la taratura sono pronto per fermentare. Faccio alcune prove nel mio fermentatore in acciaio chiuso e posto a una certa distanza di circa 9 metri dal mio router wifi e tutto sembra essere trasmesso senza problemi. Ma il fermentatore è vuoto. Faccio quindi una cotta che userò anche come cotta di prova per questo strumento e il densimetro non ne vuole sapere di trasmettere. Infatti con il mosto le cose cambiano. Dopo una notte di fermentazione apro l'app e non c'era nessun dato che era stato trasmesso dal flotti. L'effetto gabbia di faraday ha colpito ancora. Riesco a risolvere il problema utilizzando un semplice ripetitore posto più o meno a 3 metri dalla camera di fermentazione e che mi migliora il segnale ricevuto di ben 20 decibel per millivatt. Questa soluzione funziona con la mia camera di fermentazione che è in polistirene espanso. Questo materiale è elettromagneticamente neutro e quindi non interferisce con il segnale wifi come invece fa il fermentatore in acciaio che crea una sorta di gabbia di faraday. L'effetto viene amplificato ancora di più per acciai più spessi o se si aggiungono più strati ad esempio fermentando in frigorifero. In questo caso l'unica soluzione che si potrebbe tentare è quella di mettere il ripetitore direttamente all'interno del frigorifero o in casi proprio estremi direttamente all'interno della birra e quindi del fermentatore. Ma veniamo i costi. Per tutto il sistema ho speso 43 euro. 3 euro e 40 per il all-in, il giroscopio 1 euro e 60, i vari connettori 1 euro e 50 circa, la batteria mi ha costato 10 euro e 50 perché non l'ho potuta prendere dall'estero dei problemi di spedizione per le batterie. La bottiglia in pet l'ho pagata 6 euro circa, la stampa in 3d l'ho fatta da un sito online che è un aggregatore di gente che stampa in 3d e che spedisce direttamente a casa i pezzi già stampati. La mia è venuta più o meno 16 euro e poi ho aggiunto le guarnizioni per la provetta che vanno inserite all'interno del tappo in caso si voglia aumentare la tenuta. Attualmente non le sto usando e non credo siano effettivamente necessarie. Come soluzione a livello di costi mi sembra una delle più economiche anche se ovviamente serve qualche dote di manualità nella saldatura e magari qualche lieve conoscenza di software informatica anche se non troppe perché il tutorial è veramente chiaro. I problemi di trasmissione del wifi sembrano esserci anche con altri densimetri wireless. Sembra che il tilt sia quello che funzioni meglio ma giustamente il costo è più o meno duplicato se non triplicato rispetto a un densimetro autocostruito. E questo è tutto. Fammi sapere con un like se il video ti è stato utile o se ti è piaciuto. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e raccontami nei commenti le tue esperienze con i densimetri smart. Grazie. 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 Grazie a tutti.